La febbre, il mal di testa, un po' di stanchezza, dolori muscolari, ci sono e ci sono stati. In verità, devo dire, sembrano avvenire con una frequenza minore rispetto a tutta la storia dei vaccini precedenti. Quindi questo giustifica e conferma la bontà dell'evoluzione delle tecnologie, il progresso, il famoso cruscotto della macchina che dicevo quella di oggi e quella di 40 anni fa. Questo ce la dice lunga effettivamente, da questo punto di vista dobbiamo assolutamente fidarci.